Buongiorno a tutti, grazie per essere qui stamattina. Mi presento, il mio nome è Petra Perrecca e insieme al mio collega, qui alla mia sinistra, l'ingegner Carlusai, lavoriamo con la piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche, che è il gruppo di lavoro che dal 2007 si occupa di sviluppare progetti e ricerca nel mondo dell'energia. L'obiettivo principale è quello di sviluppare progetti e supportare le imprese e gli enti della Sardegna nel processo di transizione energetica che stiamo vivendo, quindi supportarli e favorire la crescita delle conoscenze e la penetrazione delle innovazioni tecnologiche all'interno delle imprese. Il seminario di oggi si inquadra come primo del secondo anno di vita delle attività dello sportello energia, che è uno dei progetti principali che la piattaforma porta avanti già dal secondo anno. Il seminario si occuperà di trattare i temi del check-up energetico, quindi l'audit energetico nelle imprese sarde. Per fare questo abbiamo invitato stamattina due persone, due ingegneri che sono esperti nelle tematiche in oggetto. Abbiamo alla mia destra in ordine l'ingegner Davide Poli e l'ingegner Sandro Picchiolutto, che ringrazio per essere qui, con il primo collaboriamo già dall'anno scorso per le diverse attività dello sportello energia e con il secondo, questo è il primo momento di collaborazione, ma io e un altro mio collega avevamo già avuto modo di averlo come formatore a un corso fatto nelle Marche nel lontano 2011. Quindi siamo contenti di poterlo avere ancora una volta a beneficio non solo nostro, ma di un pubblico più vasto. La giornata di oggi quindi si incentra sul check-up energetico, di che cosa parleremo? Quindi inquadreremo il check-up energetico in quello che è il contesto normativo e lo vedremo passo dopo passo e soprattutto con riferimento a quelli che sono i temi della sostenibilità, sia ambientale, quindi il miglioramento delle performance energetiche di un'azienda, ma ancora di più la sostenibilità economica, quindi valutare quelli che sono i costi, i benefici ambientali ed economici nell'implementazione di quelli che sono i risultati di un buon check-up energetico in azienda. Successivamente approfondiremo quelli che sono i risvolti nella vita quotidiana di un'azienda dall'applicazione del decreto legislativo dello scorso dicembre che ha recepito la normativa comunitaria che dà nuova forza alla diagnosi energetica e ai sistemi di gestione. Quindi vedremo che cosa cambia nelle aziende e quelle che sono le sfide che devono affrontare non solo le grandi aziende che sono i soggetti maggiormente energivori, ma anche le piccole e medie imprese che sono, come ben sapete, il cuore pulsante dell'Italia e ancora di più il cuore pulsante della nostra isola. Faremo questo con i due professionisti di cui vi ho detto i nomi poco fa e che presento sinteticamente. Abbiamo l'ingegnere Davide Poli che è professore associato dell'Università di Pisa nelle materie dei sistemi elettrici, scusate devo leggere esattamente per non sbagliare, sistemi elettrici per l'energia, ricercatore da anni nei mercati elettrici, specificamente per quanto riguarda i meccanismi tarifari e i meccanismi di incentivazione. E darà molto risalto nel suo intervento, come dicevo prima, alla sostenibilità economica di un investimento. Invece Sandro Picchiolutto, l'ingegnere Sandro Picchiolutto, mi piace definirlo come una buona pratica vivente perché è un energy manager di grande livello, premiato anche da Enea con il premio Enea come miglior energy manager italiano ed è esperto tecnico in diversi progetti e gruppi di lavoro. In particolare merita menzionare il comitato termotecnico italiano e Accredia. Quindi insomma sicuramente con loro approfondiremo tutti i temi, avremo anche lo spazio per le domande, quindi insomma anzi vi invitiamo personalmente a interrompere o magari alla fine del loro intervento dediceremo 10 minuti, un quarto d'ora o quanto serve per necessari approfondimenti e domande. Prima di lasciare la parola ai relatori, concludo dicendo che abbiamo al termine, avremo l'intervento del mio collega l'ingegner Carluzai che presenterà il bando che tutti sicuramente avete già visto, che è online dalla settimana scorsa, è la procedura telematica di partecipazione attiva dal lunedì scorso, bando di microincentivi per il check up energetico. Quindi parleremo del check up e forniremo anche gli elementi economici alle imprese per poter iniziare a intraprendere questo percorso. L'intervento del mio collega si focalizzerà non tanto sulla presentazione del bando, perché l'avete sicuramente già visto e sono anche numerosi quesiti che sono già arrivati, ci sono già alcune FAQ sul nostro sito, ma si incentrerà proprio sulla simulazione della presentazione di una domanda. Quindi potremmo vedere insieme quelli che sono i vari step che devono essere percorsi telematicamente. Brevemente mi interessa ricordarvi quelle che sono le attività dello sportello energia, che lavora principalmente in due attività che vanno di pari passo, una è l'attività di formazione e animazione e il seminario di oggi si inquadra in quell'attività, l'altra è l'attività di consulenza, che è diretta, rivolta alle imprese e alle pubbliche amministrazioni sarde, che se hanno qualsiasi quesito che rientra nel mondo dell'energia possono formularlo, anzi abbiamo anche messo all'interno della cartellina che avete ricevuto un foglietto nel quale potete già iniziare, se vi vengono in mente delle criticità o delle esigenze o delle curiosità che pensate possano essere soddisfatte, formulando un quesito al nostro ente, vi invitiamo a farlo. Il modulo è questo, il campo è molto sintetico perché immagino che approfondiremo il tema una volta sentiti telefonicamente o via mail, però vi invito a farlo perché è un servizio gratuito che l'ente vi offre ancora per un anno e speriamo anche per gli anni successivi, quindi è sempre un primo momento di contatto. Ultima cosa, sempre all'interno della cartellina vi è un questionario di gradimento che vi chiediamo cortesemente di compilare in modo tale da sapere quali sono stati i nostri punti di forza di questa giornata, le nostre debolezze e poter correggere eventuali errori e migliorarci per offrire sempre un servizio in linea con le esigenze del territorio. Vi ringrazio e passo la parola all'ingegner Davide Poli.